Aspiratore per camino GEMI Elettronica E' dotato di un motore in classe H. Grazie al sistema Intelligent Effort Control, ingegnerizzato e brevettato da GEMI, in caso di sforzo o assorbimento anomalo, il motore si blocca immediatamente, evitando così danni irreparabili, e riparte autonomamente non appena il tutto torna alla normalità. La ventola di raffreddamento del motore, realizzata da GEMI, è completamente in metallo, unica nel suo genere per consentire il raffreddamento anche a temperature molto elevate. Il motore GEMI non necessita di nessuna manutenzione, poiché non ha le spazzole che si usurano, perché utilizza un motore di tipo asincrono, perché sfrutta il principio del campo magnetico rotante e consente un funzionamento a vita senza nessuna manutenzione nel tempo. Gli avvolgimenti sono unici, perché progettati per resistere a temperature elevate, grazie all'innovativo sistema brevettato Strong Resistance to High Temperature GEMI. Tutto questo avviene grazie alla smaltatura in fibro ceramica degli avvolgimenti, che non solo consentono al motore di lavorare a temperature elevatissime, ma anche di raffreddarsi grazie allo scambio termico diretto. Con questo sistema il motore GEMI non ha bisogno di nessuna protezione, poiché la protezione è applicata direttamente agli avvolgimenti del motore, unico sul mercato. I cuscinetti del motore sono dotati del sistema SKF Silent Bearing, progettato da GEMI, e sono in grado di resistere a temperature molto elevate, mantenendo sempre una grande silenziosità nel tempo. Un altro punto di forza brevettato da GEMI è il sistema di autodubrificazione dei cuscinetti, definito High Temperature Bearing Lubrication, sviluppato in collaborazione con l'Università degli Studi, Dipartimento Ingegneria e Fisica dell'Ambiente Unibus, insieme a una nota casa di produzione di grassi lubrificanti. Il motore GEMI viene additivato con un grasso speciale che lo rende neutrale da qualsiasi azione di manutenzione nel tempo, assicurando un funzionamento a vita degli organi in movimento. Altro elemento molto importante è il sistema di abbattimento del 60% di assorbimento di energia, definito Low Energy Absorption. Questo grande risparmio di energia è stato possibile grazie a un particolare studio da parte di GEMI sulla gabbia discoiattolo del rotore, unico al mondo. Il motore in classe H di GEMI, per garantire un uso prolungato alle alte temperature, ha le parti in plastica come morsettiera, condensatore e connettori, cablate tutte all'esterno dell'aspiratore e protette da fonte di calore, e utilizza un cavo speciale in fibro ceramica resistente alle alte temperature. A proposito della gabbia, Aspiratore per Camino Geni. L'affidabilità è di casa.